Hola a Bernardino Casadei, segretario generale di Assifero, l'Associazione Italiana delle Fondazioni e vogliamo ringraziare anche di questa sua presenza Felice Scalvini che ne ha condiviso appunto questa presenza di Casadei oggi in questa giornata e che siamo certi porterà un quadro e un contributo interessante a tutti noi. Prego Casadei. Grazie mille per l'invito, innanzitutto vorrei minimamente dire che il Piemonte non è così messo male, cioè nel mondo delle fondazioni comunità la fondazione italiana più grande è di Novara che ha superato Brescia, quindi non è che siete proprio gli ultimi ruote del carro. Ma questo non l'abbiamo mai pensato. Però l'avete detto. Comunque, la situazione italiana è abbastanza particolare per quel che riguarda le fondazioni comunità, che sono un fenomeno mondiale e è considerato il settore in più rapido e massimo sviluppo della filantropia internazionale. Noi qui abbiamo però una situazione molto specifica dovuto al fatto che il concetto è stato introdotto tendenzialmente grazie alle fondazioni d'origine bancaria. Prima la CARE, poi la Fondazione di Venezia, la Compagnia di San Paolo, poi la Fondazione con il Sud che non è fondazione d'origine bancaria ma in realtà è molto collegata a questo mondo e questo ha avuto sicuramente degli aspetti molto positivi, nel senso che ha permesso in pochissimo tempo di raggiungere risultati estremamente rilevanti. Nell'ultima ricerca internazionale l'Italia è come valore di patrimonio gestito dalle fondazioni di comunità terza al mondo, dietro solo Stati Uniti e Canada. Quindi considerata la prima fondazione nata nel 99 abbiamo fatto un lavoro molto rilevante e i risultati sono stati sicuramente superiori alle più erose aspettative. Cito sempre che quando il primo progetto, quello della Fondazione CARE, venne alla luce, fu uno... nella storia della Fondazione CARE esistono solo due progetti che non sono stati approvati all'unanimità e questo è uno di quelli. Per cui non ci si credeva, pensavano che la cosa non potesse funzionare e invece ha funzionato. Vorrei citare solo un dato che riguarda la Fondazione Salerno, per cui nel mezzogiorno, per cui anche lì si diceva assolutamente impossibile, ebbene in circa due anni la Fondazione di Salerno ha saputo raccogliere donazioni per 2 milioni e 400 mila euro, di cui 900 mila sono frutto della Fondazione per il Sud, l'altro un milione e mezzo è stato raccolto sul territorio, quindi è dimostrazione che la cosa funziona. Contemporaneamente questo ha fatto sì che si potessero mettere in moto tutta una serie di attività e sviluppare degli strumenti, cito ancora il sistema informativo che la gran parte delle fondazioni di comunità utilizza, che è guardato con invidia sicuramente a livello europeo ma anche a livello mondiale, anche negli Stati Uniti e Canada. Per cui abbiamo tutta una serie di elementi estremamente positivi. Però questo ha anche creato dei limiti. Il primo limite è un po' la convinzione che le fondazioni di comunità sono dipendenti dalle fondazioni di origine bancaria. Senza la fondazione di origine bancaria non si può creare una fondazione di comunità in Italia. Ora anche questo non è vero. L'ultima fondazione che è stata costituita, la fondazione di Verona, è stata fatta senza alcun, nemmeno un centesimo da parte della CR Verona e comunque in un anno di attività ha raccolto donazioni tutte dal territorio per oltre 213 mila euro. Qui la dimostrazione che non serve, cioè non è che le fondazioni nascono e sono le dépendance delle fondazioni di origine bancaria. È chiaro che se ci sono può essere utile, ma può anche essere pericoloso. Perché a volte c'è la tendenza a scadere, a fare qualche sorta gli elemosinieri per conto della fondazione di origine bancaria. Questo è estremamente pericoloso, negativo, anche perché ciò favorisce poi tutta una serie di influenze indebiti, comportamenti non perfettamente coerenti e finisce poi per non far sì che la fondazione riesca a mobilitare le energie sul territorio. Altro rischio presente, qui c'è la fondazione Mirafiori che ne rappresenta un esempio, infatti lo dico sempre, nel momento in cui inizia a gestire un'attività diventa poi molto difficile comunicare quello che sono. E nel pensiero collettivo uno viene identificato in quella attività e non nell'attività di promozione del dono, da un lato. E dall'altro lato la gestione finisce sempre a quasi come un buco nero che attira tutte le energie che ci sono, perché c'è sempre cosa da fare e quindi poi l'attività di promozione e di raccolta finisce a passare in secondo piano. Questo non per criticare la fondazione, però per mostrare quelli che ci sono i rischi di certe evoluzioni. Ora, detto questo, noi abbiamo, come è stato accennato prima, una crisi economica e finanziaria che per certi versi crea delle condizioni molto positive per lo sviluppo dell'intermediazione filantropica e soprattutto dell'intermediazione filantropica a favore della comunità locale. Proprio la crisi sta spingendo molti a ripensare il loro rapporto, anche molte imprese, a pensare e quindi a riscoprire il valore del dono. Ma dall'altro lato ci si rende conto che donare è molto più difficile di quello che uno possa pensare. E se non si hanno tutta una serie di strumenti di assistenza, di aiuto, uno finisce molto spesso per rinunciarci o per non sfruttare al meglio questa opportunità. Detto questo, cosa significa? È fondamentale, a mio avviso, quattro elementi per la vita di una fondazione di comunità che, lo devo dire, non è la panacea. Cioè non è che la fondazione di comunità è la bacchetta magica che risolve tutti i problemi del mondo. La fondazione di comunità deve fare delle cose molto specifiche. E quindi il primo punto fondamentale è avere chiaro quale sia la propria mission. La propria mission, a mio avviso, non è quella di risolvere i problemi della comunità. Perché neanche Novara, neanche Brescia, le risorse che hanno sono niente. Se uno parte con l'idea di risolvere, neanche il New York Community Trust, neanche la Silicon Valley Community Foundation, le loro risorse, sono niente con fronte ai problemi della comunità. E hanno risorse molto, molto consistenti. Quindi se io ho con quella logica lì non vado molto in là. E non vado neanche molto in là se il mio obiettivo è la raccolta fondi. In Inghilterra, negli Stati Uniti, in Canada, fino a quando hanno pensato che l'obiettivo era raccogliere fondi, non li hanno raccolti. Perché non funziona così. Se io ragiono in termini strumentali, la gente non me li dà i soldi. Mi ha ragione ad andarmeli. Perché? Perché se io ragiono in termini strumentali, la gente darà i soldi a dei progetti specifici. Ma la fondazione non ne ha progetti specifici. Proprio per sua natura, doveva essere lavorato a 360 gradi. E quindi non funziona. Quello che invece funziona, e funziona benissimo, è la promozione del dono. Sembra dire la stessa cosa. No. È radicalmente opposto. La raccolta fondi, l'obiettivo sono i fondi. Lo dice la parola stessa. Per cui io mi do da fare per raccogliere dei soldi. Da finalizzare in cose più o meno importanti e valide. La promozione del dono, il mio obiettivo è il dono. Per cui il donatore. E per cui creo, mi metto, mi strutturo affinché il donatore possa realizzare i suoi obiettivi. Non per convincere il donatore a realizzare i miei obiettivi. Capite che c'è una leggera differenza? Ma sono quelle leggeri differenze che fanno il giorno e la notte. E fino a quando uno ragiona in termini di strumento per raccogliere i soldi, per risolvere i problemi, vi garantisco che raccoglierà pochissimo. E questa è esperienza decennale di tanti paesi. Nel momento in cui supera questa logica, entra nella logica della promozione del dono, diventa relativamente facile mobilitare risorse molto consistenti. ma per entrare, per vivere questa logica della promozione del dono, e qui il secondo elemento fondamentale su cui, a mio avviso, il nostro paese è estremamente carente, è indispensabile che il consiglio sia composto esclusivamente da donatori. Esclusivamente. questa è una parola forte, ma è condizione necessaria. Perché solo dei donatori uno potranno capire se la fondazione funziona o meno, cioè se serve il donatore. Perché se io non sono donatore non me ne rendo proprio conto se sta servendo o meno il donatore. Ma altro elemento fondamentale, in questo mondo in cui indomina la retorica, in questo mondo in cui la fiducia è quello che è, in questo mondo in cui tutti si riempiono di parole e poi fanno esattamente l'opposto, su questo elemento, o c'è la testimonianza concreta, o tutto quello che si dice rischia di essere visto in termini negativi. Quindi diventa fondamentale, per coerenza interna, se io do il mio tempo per un ente che promuove il dono, perché credo che il dono sia una manifestazione, non sia un dovere, ma un'opportunità, sia qualcosa di bello, sia qualcosa che riempi la vita e poi io non lo vivo, c'è qualcosina che stona, e stona parecchio. E quindi poi nel momento in cui cercherò di parlare, uno non parlo, non comunico gli altri, non comunico la mia esperienza agli altri, perché non ce l'ho. E normalmente chi la vive invece, chi vive il dono, sa che riceve sempre molto di più di quello che dà, però deve vivere questo dono, se no solo quelli che non donano pensano che siano le tasse l'elemento fondamentale. Allora quelli che non donano dicono l'importante del sistema fiscale, in realtà ha un'importanza sul quanto, ma non sul fatto di donare, tutta una serie di studi lo dimostrano chiaramente. Uno dona per donare, poi se c'è strumenti fiscalmente vantaggiosi utilizzerà quelli piuttosto che le altre, normale, ma dona non per le tasse, perché comunque c'è un costo in qualsiasi atto di donazione. Le tasse non coprono mai il 100% della donazione, per definizione. E quindi nel momento in cui io vivo questa esperienza, poi sono felice ed è un piacere per me comunicarla agli altri, ma se non la vivo, uno, non sarà un piacere per me, e due, quello che dico non convincerà nessuno, perché si sentirà la falsità dietro. Terzo elemento, anche qui in Italia dobbiamo fare parecchi progressi, è indispensabile dotarsi di una struttura adeguata, professionalmente adeguata, perché qui si tratta di dare un servizio. Sperando che non ci sia nessuno dell'agenzia delle entrate, qui è una roba per cui ci sarebbe l'imposto di valore aggiunto teoricamente sopra, perché io quello che faccio è do valore alla donazione che mi viene. Chiaramente devo dimostrare che i soldi entrano, le risorse entrano ed escono con un valore aggiunto, che può essere le tasse, che può essere l'impatto, che può essere il mio coinvolgimento, che può essere il sapere che i soldi sono finiti esattamente dove volevo io, che può essere essere informato esattamente di quello che succede, che può essere il fatto di poterlo mettere assieme ad altre persone e qui ne potrei parlare. Queste sono tutte cose che le fondazioni di comunità possono mettere a disposizione. Ma per fare questo non basta il volontario. È fondamentale che il volontario sia nel consiglio di amministrazione, che quindi eviti che la struttura prenda una deriva sempre possibile. Ma poi nella gestione, nel poter spiegare tutti gli elementi fiscali piuttosto che tutti gli elementi tecnici, sono cose anche estremamente complesse. La fondazione di comunità è una Ferrari, può volare sulla strada, ma se uno non la sa guidare e la porta avanti spingendola non va molto in là. E per saperla guidare non basta neanche la patente B, bisogna qualcosina in più per poter guidare veramente bene. E questo è un limite forte. Si è creato l'idea che è una roba tutta volontaria, ma questo non funziona. E posso citarvi degli esempi concreti in cui questa idea sta impedendo alle fondazioni di crescere. Posso citare nomi e cognomi di fondazioni che hanno per questa principale ragione ridotto la loro capacità di raccolta dell'80%. Quindi sono cose su cui bisogna riflettere bene. All'inizio chiaramente si può partire con volontaria, ma bisogna avere in mente che se non si ha una competenza tecnica adeguata non si va avanti. E questo porta all'ultimo punto fondamentale. Bisogna essere coscienti del proprio valore aggiunto. E quindi non aver paura di farselo pagare questo valore aggiunto. Nel senso che il donatore quando ottiene un beneficio è disposto che una quota della sua donazione finisca a servire affinché quel beneficio lo possa tenere. Non sono stupidi i donatori. Non è vero. Sono persone serie, soprattutto questi donatori, che donano risorse di un certo tipo e se uno gli spiega esattamente il valore del servizio accettano. E anzi sono contenti perché sanno che poi il servizio è fatto in un certo modo. E non viene fatto così alla Carlona, cerchiamo di mettere due pezzi. È indispensabile che le fondazioni di comunità italiane acquisiscano consapevolezza del valore aggiunto che loro danno. Quindi lo devono dare chiaramente. E quindi si ritorna ai punti precedenti. Questo è per dirvi come in Italia ci siano delle grandi opportunità, ci siano delle risorse molto ingenti. Studio citato spesso dalla Fondazione Cariplo indica nei prossimi dieci anni il patrimonio delle famiglie che si estingueranno per mancanza di rediretti pari a oltre 100 miliardi di euro. 100 miliardi di euro per cui metterebbero, insomma non sono proprio bruscolini. Quindi ci sono risorse molto consistenti. Di gente disponibile a donare in modo più pensato ce n'è molto di più a livello di imprese, però bisogna creare le condizioni. E Novara ve lo potrà mostrare dove anche per caso, per certi versi, essendo riusciti a coinvolgere alcuni professionisti in particolare medici, in particolare notai, in particolare promotori finanziari, hanno non solo, non c'è quasi anno che non attengono qualche lascito di un certo livello, ma hanno in prospettiva una serie di entrate molto molto consistenti. Ed è bastato innescare questo meccanismo. Poi secondo me devono fare degli sforzi in termini di struttura, di capacità gestionale, perché sennò rischiano di perdere quelle opportunità. Ma non è che Novara sia fuori dal mondo in Piemonte, è abbastanza vicino. E avendo innescato il meccanismo, nel giro di relativamente poco tempo, dopo che sembrava che non avessero speranze di raggiungere la sfida, se ben ricordo, che fra l'altro era la metà di quella delle altre fondazioni, una volta raggiunta la sfida è il caso in cui la sfida è che la fondazione Carpe aveva messo a disposizione 10 milioni di euro se nel caso di Novara se ne raccoglieva 2 milioni e mezzo. Ebbene, molte fondazioni raggiunto l'obiettivo si sono fermate, Novara invece ha raccolto molto molto di più da quando ha raggiunto la sfida rispetto a prima. Perché, ripeto, più per fortuna che altro, devo dire, sono riusciti a innescare una serie di meccanismi. A Borgomanero tutti i rubinettai ormai fanno la gara a chi ha il fondo più grande e poi si sono creati tutta una serie di persone che hanno deciso di lasciare il loro patrimonio alla fondazione Novarese. Questo per dirvi che le opportunità sono immense, che in questa fase di riduzione delle risorse è relativamente facile dar vita delle partnership con altri soggetti erogatori, fondazioni di origine mancare, mancanti locali, banche di credito cooperativo, tutte cose sono state fatte. E se si mettono assieme è relativamente facile mobilitare le risorse della comunità. Ci sono certi meccanismi che funzionano al 99.9% e permettono di raccogliere donazioni in modo veramente quasi automatico. Quindi, ripeto, la presenza della fondazione d'origine mancare è sicuramente interessante e utile, ma non è la condizione. Se c'è è meglio, ma bisogna stare attenti a far sì che questa condizione sia un elemento a favore, che io utilizzi queste risorse, queste disponibilità come leva, e non che io in qualche modo mi sieda su queste risorse e finisca quindi per non sviluppare al meglio le mie potenzialità, che vi garantisco possono essere enormi. Grazie.